Tutto pronto a Santa Margherita di Belice per l'ottava edizione dell'Alba della Legalità, manifestazione antimafia promossa dall'Associazione Giuseppe Paolo Borsellino da Libera e dal Comune. Prevista la presenza di ospiti di rilievo, come i magistrati Teresa Principato e Giancarlo Caselli, i giornalisti Paolo Borrometi e Davide Lorenzano, il testimone di giustizia Pieraiello, i registi Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, l'autore Martino Locascio, il fotografo Antonio Vassallo e l'Associazione Agende Rosse. L'appuntamento è per sabato 28 luglio alle 21, presso il terzo cortile del Palazzo Filangeri di Cutò. Ormai siamo all'ottava edizione, veramente su tutto il territorio, non solo Santa Margherita, ma nei paesi limitrofi abbiamo acquisito una credibilità. Infatti sono, oltre a Santa Margherita, sono al Comune di Montevago e di Sambuca che quest'anno ci hanno dato sostegno, ma anche altre associazioni. Quindi noi siamo felici di aver raggiunto questo traguardo. Otto anni è un bel traguardo per questo tipo di manifestazione. Fare antimafia nei nostri territori è difficile. Non è che la nostra associazione fa solo l'alba della legalità. Noi siamo tutto l'anno sui territori. L'alba della legalità è il momento in cui a Santa Margherita invitiamo quelle persone che si sono distinte nella loro vita quotidiana, non solo di fare antimafia, ma di fare la loro vita, basarla, fare una lotta anche contro la corruzione e il malaffare. Io sono una familiare di due vittime innocenti di mafia, quindi il mio è proprio uno stimolo grandissimo ad andare avanti, affrontare tante difficoltà, perché per organizzare una manifestazione del genere c'è bisogno di fondi economici, ma anche di organizzare, di pensare quasi ogni minuto tutto quello, come si deve svolgere la serata. E quindi non è solo semplicemente una serata, ma io inizio almeno tre mesi prima a pensare a chi deve essere presente, chi ci deve aiutare. Non è facile, non è facile anche individuare le persone a cui tu devi chiedere dei fondi. Sul territorio a queste manifestazioni rispondono più i giovani o gli adulti? Ma io purtroppo, ahimè, partecipano persone adulte, mature, i giovani non siamo riusciti a coinvolgerli. Dico, la sera partecipano, io vorrei che ci fosse più adesione a libera da parte dei giovani. Questo nostro presidio purtroppo non gode di ottima salute. Siamo rimasti quasi, siamo sempre i soliti, i soliti su cui pesa sia l'organizzazione della serata, ma tutto l'anno quello che facciamo. Ricordiamo a tutti l'appuntamento per l'alba della legalità. Allora, è il 28 di luglio, è un sabato, vi aspettiamo nel bellissima location, nel sesso cortile del palazzo Cutofi Langeri di Santa Margherita, per passare una serata con delle persone che credono, perché noi crediamo in quello che facciamo, che siano famosi o meno famosi, però ci crediamo.